Uomini e donne, Alessandro Schiavone svela perché non più parte del parterre del Trono Over. Da qualche tempo Alessandro Schiavone non è più presente nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Quali sono i motivi per cui il Cavaliere ha deciso di abbandonare il dating show di Maria De Filippi? Nel corso di un'intervista a TV per Tutit, l'ex volto del programma ha spiegato nel dettaglio cos'è successo. Il Cavaliere ha poi parlato di come ha vissuto questa sua nuova esperienza televisiva e ha svelato qualche curiosità in merito alla sua vita. Per quanto riguarda i suoi prossimi progetti. Per quanto riguarda i suoi prossimi progetti.